Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! In questa quindicesima domenica risuona il mandato missionario dei dodici, che ci ricorda una cosa preziosa e bella, che la Chiesa è per sua natura missionaria ed evangelizzatrice. Cerchiamo di cogliere il motivo per cui Gesù inviò così i dodici e dei punti che possano aiutarci nel quotidiano. Il Vangelo inizia così. Gesù chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due a due. Ieri come oggi Gesù chiama e invia. Alcuni sono chiamati a consacrare interamente la loro vita alla missione, ma tutti, ognuno secondo le sue possibilità, sono chiamati a diffondere il Vangelo della vita. Gesù chiama e invia a due a due. Perché? Beh, innanzitutto insieme ci si aiuta. In due ci si incoraggia, ci si sostiene, si condivide. Poi nel diritto ebraico due era il numero di testimoni minimi per attestare la veridicità di un fatto. Ma potremmo anche dire che Gesù li manda due perché siano la prima testimonianza visibile del suo amore. Questo è particolarmente utile alla nostra vita. Gesù ha detto che riconosceranno che siamo suoi discepoli dall'amore che avremo gli uni per gli altri. Possiamo fare tutti i bei discorsi che vogliamo, ma se non ci vogliamo bene, se non circola amore tra noi, non attiriamo niente e nessuno. Immaginiamo due cristiani che operano insieme e si vogliono bene. Per esempio parroco e vice parroco, religiosi o religiose della medesima comunità. Due cristiani che collaborano insieme, anche fianco a fianco al lavoro o in altre situazioni. Vedere come si rispettano, si appoggiano, si aiutano, si confrontano, si vogliono bene è una testimonianza già formidabile di Cristo e del Vangelo. Al tempo delle persecuzioni antiche i cristiani non potevano nominare Cristo apertamente. Uno scrittore antico ci dice che i pagani però rimanevano colpiti dall'amore che i cristiani avevano l'uno per l'altro e dicevano tra sé pieni di stupore guardate come si amano. Quanto è brutto invece quando tutto ciò non accade. Se in diocesi ad esempio il clero è diviso, se ad esempio nei conventi ci si fanno le guerre, se nelle comunità religiose si è gli uni contro gli altri, se tra cristiani non ci si riesce a voler bene, a collaborare, ci si fa guerra per delle sciocchezze, quale Vangelo, quale Gesù pensiamo di poter annunciare, testimoniare. Questo discorso vale anche per due genitori. Padre Cantala Messa faceva notare che se non possono più fare nulla per aiutare nella fede i figli farebbero già molto se questi guardandoli potessero dire guardate come si amano mamma e papà. L'amore è da Dio, Dio è amore dice la scrittura e dove circola amore lì è presente e annunciato Dio. Quindi Gesù diede loro potere sugli spiriti immondi, cioè Gesù comunica alla chiesa che il suo potere è di scacciare il maligno. Ecco non pensiamo solo agli esorcismi come ministero proprio del vescovo o affidato a dei sacerdoti da lui incaricati, ma pensate all'efficacia dei sacramenti, all'efficacia della parola, al fatto che evangelizzando siamo chiamati a liberare mente e cuore di quanti incontriamo dalle menzogne mediante le quali il maligno ci tiene prigionieri, tenendoci lontani da Dio o separandoci tra noi. Vi faccio un esempio semplice. Santa Teresina diceva che quando il maligno ha allontanato un'anima dalla comunione ha raggiunto il suo scopo. Magari ti trovi a parlare con una persona che da tempo si è allontanata e grazie anche alle tue parole, alla tua testimonianza, lo Spirito Santo le tocca il cuore e decide di tornare. Ecco una vittoria concreta. Quindi si passa al modo, al come Gesù indica ai suoi di annunciare il Vangelo. Se ci fate caso Gesù spende poche parole per dire il contenuto, ne spende molte per dire il modo, cioè la testimonianza da dare. Vediamo cosa Gesù ha ordinato i dodici. Innanzitutto che non prendessero nulla, né pane, né bisaccia, né denaro, né due tuniche. Perché? Ecco immaginate di vedervi arrivare due missionari in povertà. Cosa vi viene da pensare? Uno, che si affidano completamente a Dio. Due, che non vengono a imporre niente, ma arrivano con umiltà e nella povertà. Tre, che non sono attaccati alle cose e non sono alla ricerca del guadagno personale. Sono lì per annunciarti qualcosa di bello, per cui vale la pena dare tutto. A livello spirituale il messaggio è chiaro. Se ci vedono abbarbicati alle cose, attaccati al denaro. Se ogni cosa che facciamo deve essere remunerate in un modo o in un altro, ma chi attiriamo? Ancora oggi uno degli scandali maggiori per credenti e non è vedere quando noi cristiani, specie noi sacerdoti o vescovi, siamo attaccati ai soldi o al potere. Certe critiche dovrebbero farci riflettere e ricordarci che dobbiamo annunciare la salvezza in Gesù, proporre il volto amorevole gratuito del Dio Uno e Trino, non del Dio Quattrino. Gesù li manda senza nulla. Questo andare di provvidenza fa bene per primi ai missionari. Infatti, quando si è per strada senza niente, e ve lo assicuro perché nella nostra comunità abbiamo la grazia di vivere anche la peregrinazione itinerante andando senza nulla per le strade in Italia e all'estero, sperimenti tu per primo la provvidenza di Dio. E se vi ricordate, al termine del Vangelo Gesù chiederà ai discepoli, vi è mai mancato qualcosa quando vi ho mandati senza niente? No, gli risponderanno. Cioè tu per primo fai esperienza di come davvero il buon Dio si prenda cura degli uccellini e anche di te e inoltre ci si affida alla bontà, alla generosità delle persone che si incontrano. Il fatto di andare in povertà ti apre al bisogno, dunque al contatto con l'altro. L'altro aiuta te materialmente in ciò di cui hai bisogno e tu puoi aiutare lui con una parola di vita, con quella pace che porti in te, che se accolta scende anche su chi ti accoglie. Infatti subito dopo cosa dice Gesù? Entrati in una casa rimanetevi. Vi dicevo la povertà diventa strumento per aprirsi all'incontro e dove vieni accolto puoi annunciare e fare del luogo di chi ti accoglie un centro di annuncio per altri. Questo ad esempio nel caso delle missioni, nel caso degli incontri nelle famiglie, nelle case. Gesù esorta a rimanere lì, in quella casa. C'è un motivo molto pratico. Se un discepolo veniva accolto da una famiglia semplice, povera, e il giorno dopo si presentava un miglior offerente e si spostavano a casa sua, avrebbero scandalizzato i primi che li avevano accolti. Gesù li esorta a restare lì, anche così si testimonia che non si va alla ricerca del proprio interesse egoista, ma dell'annuncio. Uno potrebbe dire sì bello, ma questo può toccare i missionari, ma hanno i laici? Tranne se abbiamo la grazia di vivere di tanto in tanto anche delle missioni parrocchiali o nelle strade. Io vi invito a cogliere lo spirito delle parole di Gesù. Gesù punta molto sul valore della testimonianza. Potremmo dire che se la parola è il seme, la testimonianza è la zappa che aiuta il seme a entrare nei cuori. Una testimonianza di vita povera per i consacrati, sobria per i laici, cioè non attaccati alle cose, capaci di condividere. Quindi il valore della gratuità nelle relazioni. Sappiamo quanto siano brutte le relazioni ad interesse. Io ti cerco perché ho bisogno di un favore da te, attuale o futuro o possibile. Quanto sono brutte. Le relazioni dove manca la gratuità. Do per ricevere, do se ricevo. Invece il Signore ci indica il saper dare. Altrove dice gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Terzo punto, accogliere e lasciarsi accogliere. Coltivare dunque relazioni di amicizia, di fraternità. Tante volte l'amicizia, il coltivare le relazioni, il cercare le persone, il farle sentire volute bene, è la prima porta per condurle mano mano a Dio. Ma Gesù è anche molto concreto. Lo sa che possiamo incontrare il rifiuto. Vi sarà capitato. Avete parlato di Gesù ma non siete stati accolti. Gesù dice se non vi accoglieranno scuotete la polvere e proseguite oltre. Questo gesto rivolto ai giudei serviva per farli riflettere sul fatto che rifiutando Gesù si tenevano fuori dalla salvezza che lui è venuto a portare. Ma c'è un significato anche ulteriore, esistenziale. Qui il Signore ti dice tu annuncia, semina, se non vieni accolto vai oltre. Non ti incaponire, non insistere versione picchio contro il tronco, non essere un martello pneumatico. Non è quello che porterà al Signore quella persona. Pensate a un genitore. Hai parlato di Gesù, hai pregato in famiglia, tuo figlio con l'adolescenza, tanti saluti, non ne vuole più sapere. Entrato nell'età adulta non gli scende neanche li traverso. Che fare? Insisto, ogni giorno non serve. Testimonia con l'amore la tua fede, quando serve con le giuste indicazioni e parole. Tu semini, San Paolo dice, è Dio che poi fa crescere. Andavano, in conclusione, predicando che la gente si convertisse, dunque che cambiasse vita, invitavano ad accogliere Gesù e a orientare a Lui tutto il loro sentire e agire, e ungevano molti infermi e li guarivano. L'olio era un noto farmaco usato nell'antica medicina, ma qui acquista un valore particolare. È segno del sostegno e del conforto offerto da Dio al malato e anticipa e prefigura, e sullo sfondo possiamo vedere, l'unzione degli infermi che troveremo poi in Giacomo 5.14. In questo segno si condensa tutta l'attività caritativa della Chiesa, chiamata prendersi cura delle persone in tutte le dimensioni della persona corpo e anima. Qui non c'è solo l'aspetto del guarire, miei cari, ma vi dicevo del prendersi cura. Il guarire può essere una cosa momentanea, istantanea. Prendersi cura è qualcosa che avviene nel tempo. Mi viene in mente, come conclusione, una testimonianza molto bella di madre Teresa che raccontava come una volta raccolsero un povero dalle immondizie in India, coperto di vermi, ci vollero ore e ore per ripulirlo. Da lì a breve quest'uomo si avviò alla morte e disse alle suore, ho vissuto da animale, muoio da angelo con voi accanto. Cari fratelli e sorelle, chiediamo che questo testo ravvivi in noi l'ardore missionario, sapendo che Dio chiama ognuno, chi in un modo, chi in un altro, a essere suoi testimoni, annunciatori, ambasciatori nel mondo. Che Dio vi benedica, pace e bene a tutti!